Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata. Oggi parliamo di uno scherzo, di una provocazione lanciata da Tudor quando ha presentato proprio in questi giorni il nuovo Tudor Pelagos FXT. Ma come sempre iniziamo dall'inizio. Sapete che la Tudor presenta il suo primo sub un anno dopo il Rolex Submariner, quindi nel 1954 presenta un orologio che di fatto era una replica del Rolex Submariner ma che aveva un calibro di fornitura. Sapete anche, perché ve l'ho detto tantissime volte, che finalmente negli anni 70 la Tudor riesce ad emanciparsi dal design di Rolex e riesce finalmente, grazie probabilmente alla collaborazione con la marina militare francese, riesce ad avere, ad acquisire un design particolare che di fatto è caratterizzato dalle sfere snowflakes e dagli indici a quadrettoni. Ecco, questo particolare farà sì che il Tudor Submariner sarà sempre e comunque sia un omage al Rolex Submariner ma sarà soltanto un omage e non una replica fedele di quel orologio. Dopodiché negli anni 2000 Tudor va praticamente a forti difficoltà insomma a vendere. Considerate che nel 2000 la Tudor ritira tutti gli orologi invenduti dagli Stati Uniti e li riporta di fatto a casa. Un fatto particolare è che uno dei pochi posti dove Tudor continua a vendere è l'Australia. Non chiedetemi il motivo ma l'Australia è sempre stato un un continente dove la Tudor come brand è sempre stato sempre stato forte. Dopodiché naturalmente questa è una mia idea, una mia ricostruzione, dopo gli anni 2000 Rolex continua naturalmente ad andare molto molto forte. Si arriva al 2007 dove secondo me quelli di Rolex cominciano a fare dei ragionamenti, a dire ma qua se continuiamo a produrre Rolex a questo regime andrà a finire che poi tutti si ritroveranno Rolex al polso e alla fine esploderà perché naturalmente non si può vendere a tutti in esclusiva. Quando si supera un certo numero di pezzi all'anno si rischia insomma che tutti si ritrovino lo stesso orologio al polso e quindi che a un certo punto questa moda del Rolex imploda e a un certo punto Rolex perda di interesse come brand di lusso. Per cui viene fatta una scelta di contingentare il numero di pezzi che escono da Rolex. Naturalmente per quanto riguarda alcuni alcuni modelli quindi soprattutto per quanto riguarda il Rolex Daytona ma comunque anche gli altri orologi sicuramente hanno subito un ridimensionamento come pezzi come il numero di pezzi venduti prodotti all'anno ma come tutte le aziende Rolex ha bisogno di crescere perché se non si cresce se non si studia se non si propongono nuovi design se non si va avanti naturalmente poi alla fine le aziende così stagnano per cui si decide di investire in Tudor che di fatto era un'azienda non dico dormiente perché come ripeto aveva sempre dei punti aveva sempre dei mercati aperti ma sicuramente insomma era un'azienda che annaspava. Nel 2007 viene rilanciato a livello internazionale il brand di Tudor vengono presentati nuovi nuovi modelli e nel 2012 esce quello che secondo me è uno dei più bei sub che anche in questo momento qui sono in produzione ovvero il Tudor Pelagos. Il Tudor Pelagos ha tutta una serie di caratteristiche che lo rendono un orologio veramente di livello di qualità veramente alta ha un bracciale che è considerato uno dei più bei bracciali sul mercato comodissimo non l'ho mai provato voglio essere sincero con voi ma raccolgo quelle che sono le tante quelle tante manifestazioni insomma di di questo di questo pensiero sono veramente tantissimi i proprietari di questo orologio che dicano che questo bracciale è veramente comodo e anche sicuramente ben fatto è di titanio questo è un orologio un titanio quindi c'ha un un peso che è inferiore al rolex su marina credo che viaggi sui 150 sui 150 grammi e considerate che questo il mio tagoyer è 200 grammi quindi 50 grammi un quarto più leggero di questo di questo tagoyer e considerate anche che ha un'impermeabilità di 500 metri quindi veramente un orologio che è uno strumento con la valvola dell'elio con tutta una serie di caratteristiche che lo rendono un vero tool watch ma non solo da un punto di vista del design riprende i momenti più belli di tutor ovvero quelli di cui vi ho già parlato ovvero gli anni 70 dove con il tutor submariner secondo me tutor aveva era arrivata al design più bello a quello si era emancipata di più stato il momento in cui era più distante da rolex come design e quindi portava sul tavolo qualcosa di diverso qualcosa di innovativo qualcosa comunque che la caratterizzava che si distingueva un qualcosa che valeva la pena acquistare perché era qualcosa di riconoscibile non era qualcosa che riconduceva a rolex ma qualcosa che rappresentava di per sé una una bellezza un design suo particolare distinto per cui il tutor pelagos è quello che riprende quegli stilemi del del tutor submariner nel momenti più belli e li porta e li porta avanti per cui dal 2012 abbiamo avuto questo bellissimo questo bellissimo orologio che sul mercato fondamentalmente in due versioni quella blu opaca perché poi l'orologio è abbastanza opaco come come orologio poi abbiamo la versione nera e poi ce n'era una insomma di ispirazione ce n'è una insomma di ispirazione vintage comunque di fatto è un è un nero in un primissimo momento il pelagos adotta un movimento di fornitura da età ma un età 28 24 top quindi certificato quindi un ottimo un ottimo movimento poi successivamente un altro poi naturalmente lo dirà la storia se questo che inizi sarà altrettanto valido come il 28 24 comunque di fatto un altro movimento di fornitura e qui la prima nota dolente di del sito di tutor che dice che invece è un movimento di di manifattura non c'è niente di più falso non c'è niente di più lontano dalla verità anche quel movimento lì di kenissi è un movimento di fornitura alla stregua del 28 24 top che utilizzava prima comunque di fatto io non sono non ho nessuna pregiudiziale su questo movimento lo dirà il futuro che se è un movimento valido o non è un movimento valido io dico che come movimento più o meno siamo siamo rimasti ecco in allo stesso allo stesso livello come sapete ci sono altri sub c'è questo black bay che esce in una in una versione è una il black bay è di fatto un submariner che riprende il gli orologi più vintage quindi neanche quelli non quelli degli anni 70 ma quelli degli anni 50 e secondo me lo fa in un modo che via via quando sono passate le generazioni cioè dal primo black bay poi siamo andati avanti poi è diventato anche più piccolo come dimensioni via via è sempre ha sempre perso di più la sua la sua identità che già era minima cioè già il black bay originale era poco si distingueva poco ma era un di fatto una copia man mano che si va avanti è ancora peggio cioè peggiora ancora infatti a me non piace io l'ho detto in tutte le salse l'ho detto in tutte le lingue che a me questo black bay non è mai piaciuto un black bay che però sulla sulla corsa insomma sul sui sulla pubblicità che è stata che è stata realizzata da rolex sui sugli ambassador pensiamo a beckham pensiamo a lady gaga pensiamo a tutti questi youtuber che gli è stato dato che sono gli hanno dato questi black bay a cioè veramente come le caramelle cioè veramente semplice poter recensire un orologio come quello e naturalmente tutti gli youtuber siccome naturalmente non sono obiettivi per niente assolutamente nulla non hanno fatto altro che parlarne bene di un orologio che di fatto invece era una replica perché poi qualcuno mi dice ma te sei sempre stato dalla parte degli omaggi perché ora te la prendi con questo black bay perché il black bay non è neanche un omaggio è una replica quindi c'è una differenza tra un omaggio che è questo questo è un omaggio un tagoyer acqua racer che però negli anni che però negli anni è riuscito ad avere è riuscito ad a ritagliarsi ecco ad avere delle caratteristiche sue proprie proprie e a un certo punto ad emanciparsi dal Rolex Submariner o dal Blampamp 50 Fatoms quindi invece questo black bay assolutamente non si distingue per assolutamente nulla e questo è il motivo per cui sebbene la gente lo compri perché si trova naturalmente c'è anche qualcuno che dice non si trova io vorrei sapere in che in che paese vive questo che dice che non si trovano i black bay te le tirano dietro praticamente quando entri in un basta che tu paghi te lo tirano dietro così nella schiena si trova veramente in tutte le varianti si trovano tutti i colori si trova quando andate insomma in una gioielleria cosa che io non c'entro mai ma i Rolex naturalmente gli sportivi ormai non si vedono più a parte quelli acciaio e oro ma quelli in acciaio non si trovano più c'è lì di fianco i tudor che si trovano veramente in tutte le varianti quindi io vorrei anche capire chi è che dice che non si trovano ma non solo quelli di secondo quelli usati quelli poi di seconda mano quelli poi si trovano veramente con te li portano veramente con la pala te li portano infatti è l'orologio più rivenduto perché naturalmente la gente si ritrova che cosa un orologio che è una copia quindi privo di qualsiasi privo di qualsiasi caratteristica sua personale per cui a un certo punto c'è uno si annoia e dice va bene sì ho speso 4000 euro per un orologio come questo che non ha nessuna nessuna personalità che cosa ci faccio con questo orologio lo rivendo subito per cercare di cercare di ovviare cercare di guadagnare un po di personalità hanno cercato di mettere queste queste sfere snowflake ora un pochino forse anche migliorato forse ma fino a certo punto perché poi con una cassa come quella del black bay che è una cassa vintage senza le spallette i quadranti quadrati non ci stanno bene quindi di fatto ci ritroviamo un orologio che è una via di mezzo è un qualcosa che non sappiamo bene che cosa voglia fare insomma qualcosa che è partito male e secondo me è finito peggio anche venduto credo che venda perché naturalmente si trova perché è pompato alla grande insomma in tutti i modi da questi ambasciatori e tra l'altro parte lady gaga che non capisco cioè da un punto di vista così del da un punto di vista così degli appassionati non rappresenta assolutamente nulla lady gaga zero rappresenta almeno becam almeno becam ecco nel passato è stato visto con un rolex submariner un scusatemi con un tutor submariner per cui almeno ecco almeno almeno becam è stato perlomeno è una persona che si intuisce che ha una insomma una passione per gli orologi ecco almeno almeno quello quindi vedo vedo più becam che non lady gaga che non capisco veramente che cosa ci incastri con con l'orologeria sebbene nel mondo diciamo della della musica io la rispetto molto perché secondo me è anche una cantante molto valida ma questo non c'entra assolutamente con l'orologeria arriviamo ai giorni nostri quando dopo una collaborazione con un'altra volta con la marina militare francese quindi tudor rinizia fornisce rinizia a fornire la marina militare francese con questo di fatto un una specie chiamiamolo così un prototipo chiamiamolo insomma una prima serie di orologi che vengono dati in dotazione alla marina militare francese quindi ci sono stati in questi mesi delle fotografie di questi di questi orologi a un certo punto poi se ne è visto uno anche al polso di becam di questo nuovo ecco pelagos fx fxd quindi c'è la trepidazione per questo orologio io sinceramente insomma lo attendevo ma fino a un certo punto perché secondo me il tudor pelagos tradizionale è già un orologio stupendo che non ha di fatto che non ha nessun tipo di difetto quindi non non ero così ecco alla ricerca ecco di un orologio che che lo superasse perché di fatto secondo me è già insuperabile comunque esce questo nuovo pelagos fxd finalmente qualche qualche giorno fa tanti di voi mi hanno chiesto insomma di parlare di questo orologio secondo me questo è un orologio che lascia a desiderare c'è uno scherzo è una provocazione è un qualcosa che sta che viene pompato molto che ora verrà dato a destra a sinistra a tutti gli youtuber che ne parleranno naturalmente benissimo perché è un orologio che mai visto è un orologio stupido cioè un orologio che non ha nessun tipo di utilizzo a meno che uno non sia veramente un professionista ecco delle immersioni ma anche lì se fosse un professionista delle delle immersioni non vedo perché andrebbe a preferire questo nuovo pelagos fxd che ha un'impermeabilità di 200 metri contro il pelagos tradizionale che ha un'impermeabilità di 500 quindi anche tutta questa ricerca no dell'orologio tool dell'orologio strumento poi alla fine a che cosa si cioè hanno fatto tutto un minestrone per perché vengono fuori con il nulla perché poi alla fine come caratteristica come performance abbiamo delle performance che sono inferiori a tutto il pelagos quindi veramente non mi lascia ecco mi lascia basito il fatto di avere avere una impermeabilità di 200 metri sicuramente gli aveva dato la possibilità di avere uno spessore inferiore infatti infatti esce con 12 mm e 75 mentre il pelagos che secondo me non è troppo alto c'è chi si lamenta dello spessore ma secondo me non è da lamentarsi un orologio che è 500 metri impermeabile che ha uno spessore di 14.33 secondo me è assolutamente accettabile comunque il fatto di passare a 200 metri avere uno spessore di 12 mm e 75 poteva essere anche una poteva insomma a un certo punto essere anche capito poteva essere poteva essere anche una una variante insomma ecco interessante dopodiché è di fatto continua a essere un orologio in in titanio fondamentalmente poi il fondello in acciaio poi insomma ci sono non tutto è in in titanio comunque fondamentalmente un orologio che continua a essere in in titanio il design grosso modo è quello del pelagos e poi ha alcune particolarità una di queste che veramente mi lascia perplesso è la graduazione di 60 minuti retrograda cioè che rende di fatto questa ghiera inutilizzabile per una persona diciamo una persona normale ecco un utilizzatore che utilizza un sub così nella vita nella vita normale sì dite voi ma questo è un orologio per tecnici è un orologio per professionisti sì ma allora perché 200 metri soltanto no e poi arriviamo al punto ecco il punto più bello di tutti cioè il fatto che questo abbia delle barrette d'acciaio fisse ecco per il cinturino fisse quindi di fatto questo non c'ha neanche un bracciale metallo cosa che il pelagos era famoso per il bracciale in metallo considerato uno dei più bei bracciali sul mercato questo non ce l'ha questo esce fuori con un con un cinturino in tessuto che poi c'ha a strappo cioè io vorrei dire chi è che spende 3.700 euro per avere un cinturino a strappo oppure uno può scegliere il cinturino in cauccio ecco quindi in quindi un cauccio oppure questo tessuto quindi di fatto un orologio inutilizzabile diciamo così per tutti i giorni perché ecco è legato a queste o comunque utilizzare utilizzato ma utilizzabile ma non versatile tutto per via di queste di queste barrette d'attacco fisse che c'ha questo questo c'è qualcosa che veramente non è non non si era non si era mai visto qualcosa di assolutamente sui generis ora io a un certo punto vorrei anche concludere insomma questo video secondo me questo è un orologio che è una provocazione l'orologio vero c'è già cioè il pelagos è uno dei sub più belli che c'è sul mercato c'è già c'è già è pronto è già fatto lì costa più o meno 4.000 euro insomma sul sul mercato è un orologio stupendo un orologio che può essere acquistato e secondo me questo qui questo che stavo presentato ora è soltanto una provocazione che fa sì che gli youtuber la pubblicità e tutto ci sia movimento che ci sia insomma una che faccia da cassa di risonanza ma che poi all'atto pratico quando uno entra finalmente nella concessionaria e va lì e lo prova e vede tutti questi limiti dell'orologio stesso nell'utilizzo della vita comune nella vita di tutti i giorni a un certo punto uno dice sì ma ok questo orologio ma non c'è nulla di diverso e naturalmente il venditore dice ma sì sì certo che c'è è tutto il pelagos che è l'orologio che c'era già e che c'è già dal 2012 e che è un orologio stupendo come sempre se vi è piaciuto questo video mettete un like se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale noi ci vediamo la prossima puntata ciao a tutti